Salve amici di Attenzitalia, in questo video andremo a vedere la prova orale dell'esame PLIDA B2 livello Juniores, quindi prova per giovani, ma che potete ovviamente studiare o vedere perché comunque c'è più o meno la stessa tipologia di domande che trovereste anche nel livello per adulti, tra l'altro anche i giovani, gli adolescenti possono fare questa prova, quindi è giusto dare un'opzione anche per loro. Questa parte è breve, ci sono molte domande, sì, ma con risposte brevi, quindi come potete notare dovrebbe durare pochi minuti, è divisa in varie parti, la prima parte consiste in una interazione tra candidati, quindi non sarete da soli con l'esaminatore, ma sarete due studenti e l'esaminatore e tra di voi, tra gli studenti dovete svolgere questa prova, poi l'interazione tra candidato e intervistatore, quindi singoli è qui, senza l'altro studente e poi avete anche il monologo, dove dovete parlare solo voi riguardo uno dei temi e quindi in totale un quarto d'ora più o meno. Cercherò di svolgere velocemente questa prova con voi, nella prima parte avete questo allegato, la vostra scuola ha deciso di istituire un concorso per premiare una delle opere d'arte realizzate dagli studenti durante l'anno scolastico e ha deciso che servono, che saranno gli studenti stessi a scegliere con una votazione d'opera da premiare tra quelle selezionate nell'allegato 1. Andremo a vedere le opere che dobbiamo selezionare e dobbiamo rispondere a queste domande. Quindi le opere sono queste qui, sono queste foto e dobbiamo scegliere chi tra queste vince. Quindi esprimete la vostra opinione sul valore artistico di ciascuna opera, dite quella che merita il premio secondo voi e perché e decidete insieme quale opera premiare. Quindi il valore di tutte le opere, quale deve vincere secondo voi e quale sarà il vincitore in base alla votazione finale di tutta la squadra. Quindi qui potremmo dire tutte le opere hanno un grande valore artistico perché sono frutto del duro lavoro dell'artista, alcune hanno un carattere moderno come probabilmente le prime due o anche la terza, quella che vediamo un po' in arancione. Poi abbiamo la quarta opera che è forse più difficile da fare perché c'è questo paesaggio. Poi abbiamo questa scultura che è un altro genere, quindi non abbiamo pitture come nei primi quattro casi ma negli ultimi due abbiamo delle sculture, anche queste difficili da fare, richiedono forse anche più impegno, più talento per svolgerle. Tutte meritano riconoscimento ma io propongo ad esempio di premiare il quadro numero uno. Mi piace come ha usato i colori, come ha curato i dettagli. Penso sia un'ottima scelta secondo me perché racchiude un po' la pittura, il modernismo, una visione lungimirante dell'artista e propongo questa pittura. Poi se ognuno vota un altro quadro a quel punto potremmo dire ok qual è il secondo quadro preferito. Se le seconde scelte sono tutte ad esempio il quadro numero uno allora decidiamo, io e l'altro collega, decidiamo di annunciare questo quadro come il vincitore del concorso. Quindi se non siamo tutti d'accordo sulla numero uno proviamo a votare tutti le nostre tre preferenze e vediamo chi tra queste sei è più spesso nominata tra di noi e quella sarà il vincitore. Quindi brevemente poche cose che vi piacciono, non c'è bisogno di parlare due ore, come abbiamo notato 3-4 minuti al massimo. Nel secondo caso la vostra scuola propone per il prossimo anno scolastico due diverse attività formative, vedremo anche qui l'allegato numero due. Ogni allunno può scegliere liberamente a quale delle due attività partecipare, voi volete partecipare insieme a una delle due ma siete indecisi su quale scegliere. Quindi tra le due opzioni quali potremmo scegliere. Abbiamo volontari per un giorno, la solidarietà è l'unico investimento che non finisce mai, Toro, impegnandosi nel sociale gli studenti investono su se stessi e sulla loro crescita come cittadini sensibili ai valori della solidarietà, tre ore pomeridiane una volta a settimana, gli studenti possono scegliere di partecipare ad uno dei seguenti progetti, attività di doposcuola ed attività ludico-sportive per i ragazzi della scuola alimentare, attività animali, attività di animazione nel reparto pediatrico dell'ospedale locale, servizio nella mensa per poveri, raccolta viveri presso i supermercati della città. Potete scegliere quale di queste quattro fare o nel secondo caso il laboratorio teatrale. Lo scopo del progetto è quello di promuovere e diffondere tra i ragazzi la conoscenza del teatro e motivare i giovani a fare scuola in modo diverso trovando in essa spazi e interessi nelle ore extracurricolari. Gli obiettivi sono favorire la comprensione del testo teatrale, sviluppare la capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi, potenziare le abilità espressive attraverso il teatro. Le attività si svolgono fuori dall'orario scolastico per due pomeriggi a settimana, nel laboratorio gli allunni svolgeranno le seguenti attività, scrittura dei copioni, realizzazione delle scenografie dei costumi o rappresentazione dello spettacolo teatrale nella terza settimana di luglio. Qui dobbiamo scegliere tra queste due. Io ad esempio scelgo il servizio mensa per i poveri e non il laboratorio teatrale perché noi non vogliamo diventare attori, quindi non ci interessa quell'attività. Dobbiamo ovviamente valutare i punti di forza e di debolezza, immaginare l'utilità di quello che abbiamo scelto, cosa ci porta a quello che abbiamo scelto, perché è una scelta utile per noi e scegliere insieme l'attività a cui partecipare. Quindi dico che i punti di forza della mensa sono ad esempio che facendolo stiamo dando tutto il nostro contributo, ci sentiamo appagati, è un'esperienza che possiamo mettere anche sul nostro curriculum. Come sapete in tutte le domande di lavoro che farete, le attività di volontariato sono sempre ben accettate. Non siamo portati per il teatro, non ci interessa, non siamo persone che seguono le opere teatrali, non studiamo per diventare attori, quindi non ci interessa, per questo non ha senso scegliere. La numero due, questa è la debolezza. Anche se sì, è sempre qualcosa di interessante che qualcuno potrebbe anche fare se ha in mente una determinata carriera. Magari se volete fare il giornalista e volete avere il vostro talk show, forse può convenire sapere un po' di... o imparare un po' di cose che fanno gli autori e gli attori, scusate, che potreste fare anche voi dei trucchi, dei modi di esprimervi, delle sceneggiature, eccetera, che potrebbero esservi utili. Però nel nostro caso tutti vogliamo diventare medici, giuristi, economisti, quindi non ci interessa. E scegliamo l'attività a cui partecipare. Anche qui possiamo dire, se l'altro candidato dice sì, anche a me sembra la scelta perfetta, faremo quella. Poi se lui, perché siamo in due qui, se lui dice no, io voglio fare, ad esempio qual era la numero due, voglio fare raccolta viveri presso i supermercati della città, perché ho visto che nella nostra zona ci sono molte persone povere che hanno bisogno di aiuto, in quel caso potrei dire anche io, ah sì, hai ragione, allora sì, anche a me sembra interessante questa cosa, facciamo quello. Perché comunque sia, anche in quel caso aiutiamo i poveri, quindi io sono comunque soddisfatto di questa cosa, è simile a quello che volevo fare io, quindi facciamo quella. Nell'altra parte, in relazione con l'intervistatore, hai partecipato ad una riunione in cui voi studenti avete individuato tre richieste da fare al dirigente della scuola, tu sei stato scelto come portavoce per parlare con il dirigente e riferirli quanto è emerso dalla riunione, nell'allegato 3 trovi la sintesi delle cose che sono state dette durante la riunione degli studenti, vuoi parlare con il dirigente scolastico e presentargli le richieste degli studenti, motivare ciascuna richiesta a rispondere alle sue domande e cercare di avviare un accordo con il dirigente su ciascuno dei punti, quindi quali sono questi punti. Le attività pomeridiane devono essere proposte dagli studenti e noi non dai docenti, perché i docenti vogliono fare ore aggiuntive di lezione durante il pomeriggio, questo sarebbe troppo faticoso per noi, vorremmo usare le ore di pomeriggio per fare i compiti, così quando poi andiamo a casa non abbiamo bisogno di continuare a studiare, mentre se durante le 3-4 ore di pomeriggio continuiamo a imparare o a studiare nuovi temi da aggiungere a quelli che abbiamo fatto la mattina, a quel punto a casa alle 6-7 di sera dobbiamo continuare a fare i compiti e praticamente abbiamo perso tutta la giornata, quindi non possiamo seguire poi i nostri hobby, fare altro sport, corsi di musica eccetera e quindi questo non ci conviene, quindi sto motivando gli appunti che ho dalla riunione. dibattiti o incontri con persone esterne su temi di attualità, possiamo anche qui dire che facciamo tanta teoria, poca pratica, dovremmo cercare di invitare persone che ci possano aiutare con la loro esperienza, facendoci dei suggerimenti, spiegandoci cose che potrebbero esserci utili per il nostro futuro, quindi anche qui è qualcosa che potremmo chiedere. Ad esempio viviamo in un'epoca in cui c'è molta tensione internazionalmente, molti di noi vogliono studiare scienza politica, vorremmo qualche esperto di studi strategici o di politologia che ci potrebbe spiegare la situazione attuale, come possiamo affrontare tutto in futuro, cosa dovremmo fare, qual è la visione del futuro della società eccetera. E visite guidate non per studio ma per socializzazione appunto, potremmo dire invece di visitare solo musei eccetera, potremmo anche fare una gita, una piccola vacanza d'estate al mare tra di noi dove potremmo semplicemente rilassarci, la scuola può pagare il viaggio eccetera, poi vitto e alloggio lo paghiamo noi, vitto e alloggio sarebbe l'hotel in cui andate a stare per quel periodo più i tre pasti, colazione, pranzo e cena. Quindi noi paghiamo l'hotel e quindi vitto e alloggio, mentre la scuola organizza il viaggio eccetera, o contribuisce forse anche alle spese di vitto e alloggio se lo può permettere. Questo è quello che vorrei chiedere. Abbiamo presentato le richieste motivando ciascuna di esse, adesso con l'esaminatore potremmo decidere quale di esse fare, magari lui dice sì la numero uno la possiamo fare, la numero due no, fuori la numero tre potremmo organizzarla ma dovreste pagare anche il viaggio se è troppo lontano mentre se due tre ore e costa sotto i 200 euro l'autobus potremmo pagarlo noi, va bene va bene oppure no facciamo un altro sforzo, quindi qui è una negoziazione con l'esaminatore dipende da quello che vi dice. Numero quattro la tua scuola ha raccolto dei fondi da destinare in beneficenza, il dirigente della scuola ha chiesto ad ogni classe di proporre un'associazione, la tua classe ha scelto l'associazione dell'allegato 4 e ti ha incaricato di presentarla al dirigente scolastico, quindi dove dare i soldi che abbiamo raccolto o i fondi che abbiamo raccolto per la beneficenza, a quale ente o istituzione. Parla con il dirigente, presenta l'associazione scelta dalla tua classe, spiega perché l'associazione da voi scelta merita il contributo della scuola e risponde alle obiezioni del dirigente. Allegato numero quattro. Lega nazionale per la difesa del cane, cuccioli salvati da morte certa, cani sottratti alle lotte clandestine o da altri brutali e maltrattamenti, gatti e cani tolti dalla strada destinati a famiglie ricoverati presso rifugi sicuri e accoglienti, sono tanti i fronti su cui la Lega nazionale per la difesa del cane interviene tutti i giorni costantemente. La Lega nazionale per la difesa del cane è un'associazione privata senza finalità di lucro che non riceve finanziamenti dello Stato e opera su tutto il territorio nazionale grazie al sostegno dei suoi numerosi soci e all'impegno di molti volontari. Le attività dell'associazione sono gestione di canigli e rifugio, organizzazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione, informazione per creare un senso di responsabilità che porti ad eliminare gli abbandoni, i maltrattamenti e le violenze che vengono compiute nei confronti degli animali. Quindi abbiamo scelto questa associazione perché si prende cura dei cani che vengono da situazioni molto difficili come maltrattamenti, lotte di strada eccetera. abbiamo scelto questa associazione anche per il fatto che non ha finalità di lucro quindi è una sorta di NGO che non non ha a che vedere col governo, non ha a che vedere con profitti, non ha azionisti che deve pagare quindi tutti i fondi vanno ai cani e loro lo fanno in modo volontario senza trarre profitti. Quindi siamo sicuri che i soldi andranno in modo corretto, verranno usati in modo corretto perché questa è una società senza finalità di lucro e non riceve nemmeno finanziamenti dello Stato quindi non può essere controllato da nessuno. Opera su tutto il territorio nazionale quindi anche questo è un aspetto positivo perché magari al nord non c'è molto da fare, le condizioni sono migliori ma forse al sud questo è un problema più visibile quindi abbiamo bisogno di un'associazione simile che possa operare in quel territorio. C'è l'impegno di molti volontari quindi è un'associazione che può veramente portare un cambiamento nella nostra società perché il numero di persone coinvolte è veramente molto elevato quindi anche il numero di cani che vengono salvati è molto elevato. C'è un'ottima organizzazione, comunicazione eccetera, i canigli rifugio vengono gestiti molto bene e quindi è utile farla. Abbiamo presentato quindi l'associazione perché merita quei fondi. Rispondere alle obiezioni del dirigente, qui il dirigente può dire sì ma sono troppi soldi perché tutti lì magari diamo la metà da un'altra parte e potremmo dire no ma guardi che lei non sa che il numero di cani che soffre oggi in Italia è oltre 2 milioni e solo 100.000 sono stati salvati quindi c'è molto da fare, c'è bisogno di molti fondi quindi più diamo e meglio è. Magari può anche dire no ma noi vogliamo vedere come si usano questi soldi in modo molto trasparente e quindi in quel caso potremmo dire no ma guardi che ci sono molti studenti della nostra scuola che vanno, che aiutano come volontari in questo, in questa associazione quindi loro ci possono spiegare in modo dettagliato dove vanno i soldi e possono confermarci o assicurarci che i soldi verranno usati nel modo corretto. Anche questa è andata. Seconda parte monologo. Leggi il testo pubblicato sul blog del maestro e giornalista Alex Corlazzoli. Eccoci anche quest'anno siamo arrivati agli ultimi giorni di scuola per un maestro che ha accompagnato i suoi ragazzi fino alla quinta della scuola primaria sono i momenti più belli ma anche i più difficili. Vi lascio cinque regole. Siate imperfetti ricordatevi quanto è bello sbagliare, fare un errore per migliorare, ne farete ancora nella vita sbagliate nel miglior modo possibile. Non siate mai indifferenti, non abbassate mai lo sguardo, non voltatevi mai dall'altra parte, cercate gli occhi di chi ha bisogno di voi, rompete sempre le scatole fatelo con i vostri professori, con i vostri genitori, con i vostri amici, non accontentatevi delle risposte continuate a porvi dei perché. Usate la parola per questo. Urlate, protestate, testimoniate, tanti vi diranno voi siete il futuro, mandateli a quel paese, voi siete qui e ora. Viaggiate, viaggiate, viaggiate. Prepara il tuo discorso, nei tre minuti del monologo dovrai dire cosa ne pensi di ciascuna delle cinque regole dettate dal professore, spiegare qual è la regola secondo te più importante e perché, proporre la sesta regola di questo elenco e rispondere alla domanda dell'intervistatore. Quindi penso che tutte le regole sono interessanti, bisogna essere imperfetti perché se cerchiamo di essere perfetti potremmo non agire, non fare nulla, perché se aspetti la perfezione, la perfezione non la raggiungerai mai, di conseguenza non agirai mai e non agendo non otterrai risultati. Quindi è meglio cominciare con quel poco che si sa, sbagliando, imparando dagli errori, andando avanti. Non siate mai indifferenti, quindi dobbiamo prestare attenzione a quello che succede, non dobbiamo cercare di concentrarci solo sui nostri interessi, ma anche prestare attenzione agli interessi altrui, alle persone bisognose, a quelli che hanno bisogno appunto di noi, cercare gli occhi, dice, di quelli che hanno bisogno di noi, quindi aiutare gli altri, anche questo è molto interessante. Rompete sempre le scatole, non dobbiamo essere dei yes men, come dicono gli americani, quindi persone che dicono sempre di sì, ma dobbiamo farci, fare delle domande, porre delle domande. Se le risposte ci convincono, possiamo anche noi dare il nostro contributo, unirci alla causa. Se però non ci convincono, dobbiamo fare le cose diversamente, dobbiamo cercare altre strade, non dobbiamo seguire nessuno. Anche questo è molto utile, perché dobbiamo capire perché facciamo quello che facciamo e non farlo a priori perché ci danno degli ordini gli altri. Non dobbiamo essere degli seguaci, perché dobbiamo trovare la nostra strada e capire se quello che stiamo facendo è in sintonia con i nostri valori oppure no. Urlate, protestate, testimoniate, qui significa non conformarsi con le ingiustizie, quindi se qualcosa è sbagliato, anche se non vi tocca in modo diretto, dovete comunque protestare o unirvi a coloro che protestano se vedete che i diritti vengono calpestati nella democrazia in cui viviamo. Sostanzialmente consiste nel proteggere la nostra democrazia e la proteggiamo anche protestando e urlando contro le ingiustizie. Viaggiare, 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 anche questo è interessante perché si conoscono nuove culture, si fanno nuove esperienze, si imparano nuove lingue, si fanno nuove conoscenze, quindi i viaggi sono qualcosa di molto interessante. Quindi ho detto ciascuna delle cinque regole. Una sesta regola può essere studiata in continuazione, quindi dopo aver finito le superiori o anche l'università non vi fermate, anche se avete trovato un ottimo lavoro, cercate di studiare sempre, di capire come potete fare meglio il vostro lavoro, come potete migliorare, come potete guadagnare più soldi, come potete aiutare più persone. Bisogna cercare di migliorare sempre perché noi esseri umani siamo persone che possono e devono continuamente migliorare, non raggiungiamo mai il nostro massimo, quindi è una lotta continua tutta la vita con la miglior persona o l'ideale della miglior persona che possiamo diventare, quindi una sorta di gara con noi stessi, gara quotidiana. E le domande dell'intervistatore, lui magari vi potrà dire quale è la vostra preferita, potete dire viaggiare perché sono appassionato di viaggi, oppure quale è quella che non vi piace di più, potete dire urlate, protestate, testimoniate, non mi piace perché sì capisco che i valori sono importanti e bisogna proteggerli, però io sono una persona a cui piace rispettare le regole, quindi posso cambiare le cose ma con una, con la pace, con una conversazione proficua, cercando di convincere l'altro di sederci attorno ad un tavolo e conversare, trovare una soluzione invece di andare a protestare, rompere, urlare. Penso che non mi si addice perché io sono, ho la mia personalità, sono una persona socievole, educata e non mi piace urlare ad esempio. Infine vacanze con i genitori, come divertirsi, come ogni anno sono arrivate le vacanze per alcuni e per alcuni anche il momento di preparare le valigie e partire con i propri genitori, sicuramente non è la vacanza ideale né la più divertente, spesso si finisce in un angolo a leggere un libro pensando a quanto ci sarebbe piaciuto stare con i nostri amici mentre mamma e papà si rilassano al sole. Tranquilli, il modo di sopravvivere e trascorrere comunque delle piacevoli vacanze c'è, innanzitutto non partite già convinti di non potervi divertire perché questo atteggiamento negativo vi influenzerebbe negativamente impedendovi di trovare qualcosa di piacevole da fare durante il viaggio. Adesso prepara il tuo discorso, nei tre minuti del monologo dovrai dire quando è che un genitore può permettere ad un figlio di andare in vacanza da solo. Se hai già fatto una vacanza da solo racconta la tua esperienza e dici come ti sei sentito, quali sentimenti hai provato, quale difficoltà hai avuto. Qui potete dire un genitore può permettere ad un figlio di andare a fare la vacanza da solo quando il figlio dimostra di essere abbastanza grande da poter fare questa vacanza. Come possiamo capire questa cosa? Beh, se il figlio nonostante la giovane età fa dei lavori, cerca di guadagnarsi da vivere, magari anche piccoli lavoretti da due o tre ore a settimana e riesce ad accumulare abbastanza soldi da finanziare una parte di questa vacanza o anche tutta la vacanza, il genitore deve contribuire, deve dare altri soldi o almeno permettergli di andare in vacanza con i suoi soldi. Se il figlio va bene a scuola, è una persona educata, dimostra di essere una persona responsabile, il genitore deve premiarlo per questa cosa e se lui si vuole divertire con i suoi amici, andare in vacanza da solo, glielo deve permettere perché il figlio ha dimostrato di essere abbastanza grande. Hai già fatto una vacanza da solo? Potete dire no, io non l'ho fatta, i miei genitori sono troppo severi, non mi lasciano. Potete anche dire sì, l'ho fatta con i miei due amici, i miei migliori amici. Nel giugno del 2015 siamo andati in vacanza a Salento insieme, abbiamo affittato una piccola casa, siamo andati al mare tutti i giorni, oppure abbiamo anche trovato un lavoro lì dove lavoravamo part time e la restante parte della giornata potevamo sfruttarla come ci pareva, andando al mare, visitando i posti, uscendo, facendo conoscenze con altre persone. Le difficoltà ci sono perché sei in una città nuova, non hai i genitori lì, devi imparare a cucinare, a prenderti cura di te, lavare, stirare, eccetera, e devi anche lavorare, però ci sono anche aspetti positivi perché impari a crescere, a prenderti cura di te stesso, a fare nuove conoscenze. Se non hai mai fatto una vacanza da solo, immagina quali difficoltà potresti avere ad andare in vacanza da solo e che cosa o chi potrebbe aiutarti a superarle. Beh, andare da solo in vacanza può essere anche pericoloso se vai in zone in cui c'è criminalità, è difficile farcela da solo, ti serve, potrebbe aiutarti l'aiuto dei tuoi genitori, oppure dei parenti che abitano nella città in cui vuoi andare a fare le vacanze, che potrebbero ad esempio darti dei consigli dove andare ad abitare, dove andare a mangiare, dove fare spesa, eccetera, o anche in momenti di difficoltà, che ne so, siete rimasti senza soldi, chiamate i genitori o i vostri parenti e loro sono coloro che vi potrebbero aiutare. E dovete ovviamente rispondere alle domande dell'intervistatore, potrebbero chiedervi di tutto, dipende anche dalle vostre risposte, a volte loro si ispirano alle vostre risposte per farvi ulteriore domande, ad esempio che ne so, ma ti è mai capitato di rimanere senza soldi quando sei stato in vacanza? Cosa hai fatto? Potete dire mia zia abitava a Salento quando ho fatto questa vacanza e gli ultimi giorni non potevamo più permetterci di pagare la casa e non avevamo abbastanza soldi per fare spesa, siamo andati da lei e io e i miei due amici abbiamo passato due o tre giornate da lei e abbiamo dormito da lei in quei giorni, è stata molto gentile, ci ha aiutato e noi siamo molto contenti di aver passato del tempo con lei e la sua famiglia, ad esempio. Monologo, leggi il testo, mamma e papà mi hanno fatta bionda con gli occhi scuri e con la pelle che si abbronza dopo mille ore di sole e dopo aver attraversato colorazioni che spaziano dal fluo all'aragosta. Non mi hanno trasmesso nessuna agilità e infatti a scuola ero tra le ultime ad essere scelte quando si giocava a qualsiasi tipo di sport, innanzitutto la palla a volo. Alle medie avrei voluto avere la disinvoltura di una mia compagna di classe, super simpatica, spigliata, circondata da amiche, corteggiata dai ragazzi più belli della scuola. Io invece ero un piccolo fungo complice, il taglio di capelli con le guance a forma di scoiattolo e troppo timida per avvicinarmi al genere maschile anche solo per un ciao. Adesso prepara il tuo discorso, nei tre minuti del monologo dovrai dire a chi ti piacerebbe assomigliare perché? Magari siete una ragazza, potete dire mi piacerebbe assomigliare a mia madre perché è molto carina, è bionda, occhi azzurri, molto alta, una persona molto intelligente, molto socievole, che ha molte amiche, riesce a dialogare e conversare con tutti, è molto aperta ambientalmente, quindi è una persona molto disponibile, che capisce, che è moderna e con cui ti diverti. Se siete un maschio vorrei assomigliare a mio padre perché è alto, capelli neri, occhi neri, una persona molto simpatica, anche carina, che sa parlare con le persone, sa farsi rispettare, ha molti amici, eccetera. Raccontare come immaginavi la tua vita futura quando eri bambino, volevo diventare ministro ma poi ho capito che a scuola non andavo bene e mi piaceva giocare a calcio, poi ho cominciato a giocare a calcio con i pulcini di questa squadra, che ne so, dell'Atalanta, Bergamo e ho giocato fino a 18 anni, poi mi sono fatto male, non ho più fatto, non ho più giocato a calcio, ma ho scoperto che mi piaceva disegnare e ho fatto il pittore, ad esempio. Oppure potete dire, volevo diventare calciatore ma non ero bravo a giocare a calcio, quindi ho cominciato a studiare tanto, andavo bene a scuola e ho deciso di fare il medico in futuro e studiare medicina. Spiegare come immagini ora la tua vita tra dieci anni, che lavoro farai, dove vivrai, eccetera. Se studierete medicina potete dire voglio diventare neurochirurgo, mi piace operare le persone, anche se è un lavoro molto impegnativo, si possono salvare molte vite ogni giorno, aiutare dando un grande contributo alla società, si guadagna anche tanto, quindi mi piacerebbe comprare un grande appartamento al centro di Milano, nell'ultimo piano di un grande edificio e vivere lì con mia moglie e i miei figli, ad esempio essere sposato e avere tre figli. Rispondere alla domanda dell'intervistatore, anche qui lui ascoltando le vostre risposte potrebbe fare qualche domanda che gli potrebbe anche venire in modo spontaneo, che ne so. Ma perché vuoi avere tre figli? Perché così tanti? Dove dire sì perché anche mio padre ha tre figli o ho altri due fratelli. Oppure sono figlio unico, mi piacerebbe e sono stato sempre molto contro questa cosa, non mi è piaciuto il fatto di essere stato figlio unico, mi sarebbe piaciuto avere più fratelli con cui, o sorelle con cui giocare, passare del tempo. Mi annoiavo molto e quindi ho deciso che quando avrò la mia famiglia avrò più figli, ad esempio. Dipende, come sempre, dall'esaminatore e dalle domande che vi fa. Comunque noi abbiamo risposto a tutto e spero di avervi dato degli spunti utili per il vostro esame. Magari vi sarà utile, lo spero tanto. Vi ringrazio della vostra attenzione, vi lascio il link della playlist con altre prove di questo esame in descrizione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!